Meteograd, le previsioni meteo sempre con te. Segui ora il canale e lascia un mi piace, grazie. Un saluto a tutti, benvenuti nella rubrica di approfondimento modellistico, pillole meteo. Una depressione con perno a nord del Regno Unito porterà nei prossimi giorni ad una distensione del getto nord-atlantico lungo i paralleli a medio-alte latitudini. Ciò avrà come conseguenza l'allungamento del ramo orientale dell'Alta delle Azzorre verso il comparto occidentale europeo, dove già staziona un campo anticiclonico di matrice afro-mediterranea. Si creerà quindi l'unione tra i due anticicloni che assumerà sempre più contributo subtropicale, a garanzia di molti altri giorni contraddistinti da caldo e d'afa su tutto il Mediterraneo ed Europa meridionale. Il tutto sarà accompagnato da termiche in quota diffusamente superiori alla media. Anche la nostra penisola verrà inglobata totalmente in tale anticiclone con tempo stabile soleggiato su tutte le zone, ed instabilità pomeridiana sui rilievi che andrà progressivamente scemando fino a scomparire totalmente da venerdì. Le temperature al suolo schizzeranno nuovamente verso valori molto elevati con punte massime che potrebbero toccare i 40 gradi Celsius in alcune zone interne del centro nord a partire dal fine settimana. Di conseguenza le termiche ad 850 etto Pascal continueranno a salire, arrivando circa alla 24, con il fulcro del caldo veramente intenso che per ora e per fortuna resterà verso Spagna e Francia meridionale. Grazie a tutti della vostra attenzione. Arrivederci al prossimo appuntamento. Non dimenticarti di iscriverti al canale e di attivare la campanella per ricevere le previsioni aggiornate.